Zona del lungo fiume Nord of Limits dalla prossima settimana e per un mese al fine di mettere in sicurezza l'area interessata dal cantiere per la costruzione del ponte nuovo di Pescara. A partire dalle 8 e 30 di lunedì 23 giugno e fino al 22 luglio saranno interdette al traffico alcune strade intorno alla zona dei lavori a nord del fiume. Dunque il problema è quella della realizzazione del ponte nuovo ma prima ancora di procedere a questa fase c'è bisogno della bonifica dell'area da eventuali ordigni bellici che li possono essere come dire interrati. L'autorizzazione del ministero è stata accordata, l'impresa è già stata scelta specializzata per quanto riguarda questo tipo di bonifica. L'ordinanza riguarda da lunedì 23 fino al 22 di luglio. Per 20 giorni l'area diciamo golenale di via Valle Roveto potrebbe usiamo il condizionale nonostante l'ordinanza è per 30 giorni potrebbe essere interdetta al traffico per alcune ore di una giornata o per alcuni giorni. Il comune per questo si è rivolto al decimo reparto infrastrutture del ministero della difesa che ha attivato la procedura per la bonifica e per limitare i disagi ai cittadini ha diviso l'intervento in due fasi. La prima partirà lunedì e interesserà l'area nord del fiume ovvero quella ricompresa fra via Gran Sasso, via Valle Roveto, lungomare dei Poeti.